E' Berti, Crippa, il cross, Serena e colpo di testa e palla che finisce fuori ma c'è contemporaneamente un fischio dell'arbitro che ravvisa una irregolarità e fischia il rigore, c'è stato un attimo di indecisione, non si capisce ancora ma probabilmente l'arbitro, rivediamo, vedete il cross di Crippa e c'è Serena che viene strattonato, ciò che ha indotto l'arbitro del me a concedere il calcio di rigore in un primo tempo avevamo avuto la impressione che l'arbitro avesse fischiato un calcio di punizione contro gli azzurri non per fallo certo di Serena ma per qualche altra irregolarità, invece si tratta di calcio di rigore al secondo della ripresa per fallo su Serena c'è il rigore a favore degli azzurri, Giannini ha sul piede l'opportunità di sbloccare il risultato proteste peraltro molto civili da parte degli scozzesi, qualche attimo di indecisione ora il rigore che Giannini si accinge a battere, Giannini contro Goran, parte Giannini, batte di destro e segna 1-0 per l'Italia al secondo minuto della ripresa su calcio di rigore Giannini però l'arbitro ha l'intenzione di fare ribattere e del Messi erge assoluto protagonista in questa fase iniziale della ripresa raccomando all'arbitro a tutti di non entrare in area prima che il tiro sia partito e Giannini ci riprova dalla parte opposta ai gol molto preciso Giannini segna anche il secondo rigore, stavolta è tutto ok Giannini segna dunque su calcio di rigore e porta in vantaggio alla nostra nazionale già nel corso della cronaca diretta del primo tempo avevo sottolineato come Giannini era stato senz'altro tra i più efficaci nella squadra di vicini e ora a coronamento di questa sua ottima prestazione Giannini segna dal dischetto 1-0 per l'Italia Macleod Corridore cambia gioco su Giannini e si propone ancora Baresi, eccolo servito a fondo di Baresi bello il suo traversone, colpo di testa di Cripp, fermato, poi Serena, gol anzi è Berti, è Berti che ha segnato gol di Berti dopo una prudenza di Baresi che ha offerto un gran pallone a Crippa in cui il colpo di testa è stato miracolosamente respinto ecco che rivediamo, grande a fondo di Baresi splendido il suo traversone, il colpo di testa di Crippa la respinta distinta del portiere c'è Berti, vedete che di testa infila l'angolino mettendo fuori causa il portiere avversario 25esimo della ripresa, rivediamo ancora il sontuoso spunto di Baresi il suo traversone, il colpo di testa di Crippa schiacciato, la parata distinto del portiere lo stacco di Berti, il suo gol gol di Berti, 25esimo della ripresa, 2-0 in effetti quando affondano gli azzori sono sistematicamente pericolosi ed è ancora una volta da notare la grande intelligenza anche tattica di Franco Baresi che ha capito immediatamente come da quella parte c'era un barco un barco di testa di Crippa